sono salatissime le multe alle quali coloro che ignorando qualsiasi regola di buonsenso continuano nella loro errata condotta di smaltimento dei rifiuti a seconda di che tipo di reato si compie se conferimento errato di rifiuto o peggio ancora di abbandono al suolo di materiale vario o di rifiuti speciali o inerti le sanzioni pecuniarie variano dai 50 ai 500 euro ma neanche questo ha scoraggiato le cattive abitudini di alcuni che scambiando le isole ecologiche per delle discariche a cielo aperto nel tempo ci hanno lasciato di tutto dai giochi per bambini alle pentole della cucina lì ai lati dei cassonetti per questo aset in collaborazione con gli ispettori ambientali ha protetto le isole ecologiche con speciali telecamere per pizzicare i cosiddetti furbetti del cassonetto telecamere che però in questi giorni sono state smontate e per chiederne il motivo ci siamo proprio rivolti ad aset abbiamo dovuto rifare una gara d'appalto perché quella precedente era scaduta quindi il nuovo soggetto fornisce delle telecamere diverse da quelle precedenti inoltre visto che le telecamere sono di nuovo tipo abbiamo dovuto rifare una prova di staticità dei pali dalla quale risultato che i primi pali installati non sono idonei quindi devono essere sostituiti sono una quindicina inoltre ecco stiamo comunque aumentando le postazioni sono 52 prima erano 42 quindi a breve dopo la sostituzione dei pali avremo completato l'opera e quindi avremo sul territorio 52 telecamere ecco hanno delle caratteristiche delle performance diverse rispetto alle precedenti bene quanto facciamo le gare bisogna che diamo caratteristiche di massima queste alla prova dei fatti ci hanno comunque soddisfatto come le precedenti e hanno ottiche leggermente diverse poi devono essere un po adattate a seconda dei siti quindi ci sono dei siti in cui richiede un angolazione di ripresa diversa alcune che invece ne richiedono un campo visivo più stretto quindi ecco sono abbastanza diverse ma la ditta comunque una ditta che opera su tutto il territorio nazionale quindi esperta nel settore e le immagini sono sono soddisfacenti insomma avete dati anche rispetto alla passata precedente esperienza le persone che fanno i furbetti ci sono sempre comunque le telecamere hanno fatto la grandissima deterrenza sui comportamenti scorretti quindi siamo soddisfatti anche se si può Ogni ecco con ecco 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 ecco